Una storia singolare e unica quella di Lucy e della sua famiglia, una bambina speciale che ha lottato per vivere assieme ai genitori fin dai primi giorni di vita e che ora sorride ed è da esempio per tanti, che grazie a lei, a mamma Anna e papà Gianluca, professionisti nel settore musicale, possono conoscere questa storia perché insieme hanno realizzato uno spettacolo particolare con l'idea di condividere la loro esperienza di affidamento per la vita fragile della piccola Lucy, una storia di unione familiare la loro e di riscoperta dell'esistenza di ciascuno come dono. Lo spettacolo che in questi anni ha toccato il cuore di tanti è stato portato in teatri e parrocchie a Verona e in tante altre città d'Italia. Sabato ha fatto tappa a San Pietro in Cariano. Ecco ci teniamo proprio a organizzare questi eventi anche come vicariati proprio per annunciare quanto la bellezza di Gesù che è dono di vita ci dona di vivere in bellezza questa vita e allora in questa serata noi vogliamo proprio dire questo, un grande sì alla vita, proprio perché non ci sia nessuna cosa che ci impedisca di vivere appieno la nostra vita, ogni nostra vita, perché proprio per il fatto che è vita ha senso che sia vissuta. È stato un evento pensato e realizzato per tutti ma in particolare per i giovani che si affacciano alla vita da protagonisti per offrire un'occasione rara oggi, quella di interrogarsi per capire meglio il significato della vita e che aiuti a farsi qualche domanda per andare nel profondo della propria esistenza. Mi ha lasciato qualcosa dentro con mille dubbi e mille domande riferite sia alla vita in generale sia comunque al fatto di dire sì a un qualcosa, in questo caso ero una bambina, o comunque dire sì alla vita.